Io ho soltanto messo una pinta di export davanti a Begbie. Ha bevuto solo un cazzo di sorso. Poi ha lanciato il boccale vuoto dell'ultima pinta giù dal balcone con un gesto distratto del braccio. Il boccale va a frantumarsi sulla testa di una ragazza e gliela spacca mentre lei cade in ginocchio. Begbie si alza di scatto e corre giù dalle scale e urla! Si è beccata una bicchierata e nessuno esce da qui finché non scopreva il notti culo che l'ha fatto! Si è beccata una bicchierata. E nessuno esce da qui finché non scopriamo il rotto in culo che l'ha fatto! È stupendo! Che altro hai scritto?